Come si sta adeguando la nuova direttiva d'Italia? Ecco qua. Mentre 70.000 persone all'anno muoiono per il tabacco, il Premier Renzi abbracciano i multinazionali e le definisce il futuro. Il 14 ottobre 2014 inaugura il nuovo insediamento della Filippe Morris a Zola Pedrosa insieme con la Filippe Morris il candidato PD alla Regione Stefano Bonaccini, il Ministro dello Sviluppo Economico Federica Guidi vedete l'isolamento di queste poverette qua che organizzano. Il Ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti il Ministro dell'Agricoltura Romano Prodi e Sergio Marchionni e che ha detto Renzi il futuro è oggi.